buongiorno oggi direzione milano però prima si passa in banca backstage di un instagram quindi niente stavamo dicendo che stiamo andando a milano ma non l'avevo detto stiamo andiamo a niente io adesso ne approfitto per andare a bagno perché così non la devo fare a milano la faccio qua nel treno sia a milano non devo pagare un euro 3 no quando devo pagare 100 euro per andare in bagno qua c'ho l'acqua sant'antonio bene ragazzi io ne approfitto andare in bagno quindi passo dove il bagno ciao 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 niente raga siamo andati a trovare il grande lupo bellissimo dire grande lupo però vabbè qua a milano c'è un videografo che si chiama lupo vi lascio il canale e descrizione siamo andate a trovarlo è giusto non sono un gonetto adesso siamo andati in piazza Cg aulenti ragazzi questo è la grande milano queste quante bello giardini verticali le altre torri Che fighe Rompigli la targa Se no mi denunciano Ragazzi Io mi sono preso un'insalata Che costa 3,89 euro Un panino Burger King che è meno sano Costa di meno E dai finalmente stiamo uscendo Abbiamo pranzato Praticamente nulla abbiamo messo 40 anni per Mangiare nulla Però niente Siamo fermati su Amazon E niente Il tempo passa È normale Con il tempo Bello eh Bello Come ho dato il foto shooting Che figata Andiamo Di là Dove siamo andiamo Allora siamo andiamo Non so come si chiama Sinceramente Giardino verticale Giardino verticale Ma adesso lo so Veramente enorme Ma se Ma praticamente sono Degli appartamenti No è un ufficio Sono uffici No è un ufficio No è un ufficio No è un ufficio tutto venduto aspetta non ha trovato io non ho trovato nulla in pratica dato che arriva domani noi domani non siamo qua specifica che era per un tuo amico perché ovviamente l'acqua non era per me ma era per un mio amico che sicuramente a lui per per cura lui indare scusano è un'acqua naturale non è che cambia è un'acqua per cui c'è per la gente che se la può permettere si sto dicendo che siete studi se ve la siete sembrati girando a lui in quadrare il mio naso che sembra gigantesco così ciao stiamo camminando da 900 anni la giornata è quasi giunto a te esatto stiamo per andare in stazione mi piglio un panino a burger king questo perché è il meno costoso zio che fissa probabilmente adesso pigliamo la metro e per forza prefoggio e boom fico oh mi guardo io lo prima non finavi tanto cioè schifo dai allora sta cosa della coppia quando è 8 mili metri conti esatto e a Miriam si sta facendo buio come vediate non c'è tempo 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 solo 10 minuti e poi fate indietro che ti è arrivato poi se il treno non prende se lo sei scaricato che cosa è buon esperienze di viaggio come è andata? bene bene di viaggio io ho dormito 10 minuti e stiamo spavando niente è stata una bella giornata però stancante io mi ho letto a post produrre delle foto perché le carico pratica stasera e niente e io spero che il posto vi sia piaciuto se state così lasciate bene portate su commentate condividetemi soprattutto iscrivetevi io vi saluto e ciao ragazzi ciao 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 ciao